Abbiamo iniziato veramente ormai tanti anni fa con una ricetta dedicata a digitale, abbiamo cominciato a comunicare direttamente con il pubblico e quindi questo piccolo laboratorio ha cominciato a crescere, abbiamo cominciato a realizzare le nostre prime collezioni. Berto presenta la sua prima collezione Outdoor, nata come Laboratorio Artigianale Amida, dove la cultura per il mobile viene tramandata di padre in figlio. Berto è un'azienda speciale. La cosa che abbiamo fatto è stata quella di aprire il nostro laboratorio e di fare interare tante persone per far conoscere direttamente, lavorando insieme a noi quello che secondo noi era la nostra vera forza, la nostra vera ricetta, i nostri valori. E quindi questa cosa ci ha insegnato a costruire una distribuzione diretta, quindi parlare direttamente col cliente finale ci ha insegnato a costruire degli spazi, dei showroom dove le persone potessero riconciliarsi con il lavoro artigiano, col design in modo diverso, costruendo un'esperienza unica.